Ascoltatori dal Trastevere Stadium in Roma, vi arriva il saluto di Carlo Bellotti, pronto a raccontarvi la ventunesima giornata di Serie D, Girone F, di fronte Trastevere e Pineto. Che va a rinviare, ancora però una rimessa, attenzione al movimento di Barlafante, a duello con l'avversario, ingresso in area, Barlafante sinistro, Semprini con la mano a dire no. Pineto che adesso prova a velocizzare il gioco con della Quercia, il tocco a restituire al numero 20, poi Barlafante la lascia lì, ecco il suggerimento, ancora verso il numero 21, Semprini. Porta palla il capitano, poi il tocco verso Proia che col destro lancia in area di rigore splendido per Fioretti. La rica laterale sinistra, il movimento di Fioretti, splendido il pallone di Proia a servire il numero 9 in area di rigore, Giordano Fioretti deve duellare, poi mette il pallone sul secondo palo, intervento della difesa che mette in calcio d'angolo. Il primo palo, chiusura di Tarantino, il pallone ancora vivo, attenzione a contro cross, esce bene la difesa per un attimo, poi il tentativo col tiro, il pallone ancora vivo, serie di colpi di testa, poi Barlafante mette giù, ancora il numero 21, si sposta, calcia, alto! E ti chiusura con la testa di Paoli, poi Massimo va giù, ma si continua a giocare, anzi dato anche il vantaggio alla squadra abruzzese, attenzione, Barlafante ancora lui, Barlafante in area di rigore, porta avanti gli ospiti! Federico Barlafante, 1-0 Pineto, attende solo il sinistro di Proia che arriva adesso, sul primo palo Crescenzo! Una punizione simile, Crescenzo, pallone messo fuori, Massimo, stop e calcia! Deve intervenire Mercorelli con un miracolo! E si gira Macri, ne ha tre addosso, allora allarga tutto, come sempre è salito Cervoni a dare una mano, vuole andare al cross, va a puntare l'avversario, uno contro uno, ancora su Pezzotti, Cervoni la sposta, mette il pallone, che passa! Ecco del Trastevere, Macri fermato con un fallo, ma si continua perché c'è Fioretti, limite dell'area di rigore, Fioretti, sinistro, si abbassa Mercorelli e blocca! E poi va col destro a cercare Fioretti, ancora una volta Paoli in anticipo, ma c'è questa volta Macri che arriva sul pallone, poi Proia, con Proia che mette il pallone, il colpo di testa di Tarantino che illude lo stadio del Trastevere! Quando Crescenzo si va a destra, Macri e Cervoni da quella parte, Macri rientra sul mancino, ha pensato al tiro, poi invece un cross, tocco di testa e il pallone! E non è gol, incredibile, ha salvato Mercorelli, si lamentano tutti, si lamenta Fioretti! Sempre tanto tempo per la battuta, Paoli adesso la spizzata in area di rigore, il tacco, Minincleri! Il raddoppio del Pineto, su calcio piazzato si è inserito il numero 10, ecco il sinistro, batte Semprini, 2 a 0! La battuta di Proia che alza sul secondo palo, Tarantino la tocca e mette direttamente fuori! Fischio del signor Dusel, fa festa alla squadra di Daniele Amaulo che vince da Gorsara qui al Trastevere Stadium, prima sconfitta in casa per mister Mazza e il suo Trastevere! Le reti di Barlafante e Minincleri, una per tempo, portano 3 punti al Pineto che sale quindi a quota 35 punti in graduatoria!